Chiara Ferragni e Fedez sono promessi sposi da quel 6 maggio del 2017 all'Arena di Verona. In mezzo c'è stata una gravidanza super social e la nascita del piccolo leone, ma ora è tempo di mantenere la promessa e regalare ai fan un altro evento storico. La fashion blogger più cool del momento e il rapper dovrebbero sposarsi in Sicilia il prossimo 31 agosto. La località scelta è quella di Noto, bellissima città in provincia di Sigracusa. A rivelare le indiscrezioni il settimanale Oggi, secondo il quale Chiara sarebbe andata in avanscoperta insieme ad amiche e parenti poco prima della nascita di Leone. Sempre secondo Oggi, la Ferragni avrebbe già deciso di affidare l'organizzazione dell'evento a Vincenzo Descanio, designer di eventi ed esperto di matrimoni VIP. C'è grande attesa per i dettagli dell'evento che si prospetta come uno dei più glamour e soprattutto social dell'anno. Dopo le molte polemiche che nei giorni scorsi hanno interessato Chiara e Fedez, accusati di non essere bravi genitori per la sovraesposizione social del figlioletto di poche settimane, il matrimonio della coppia metterà invece probabilmente tutti d'accordo. Anche perché ci si aspetta un ruolo di primo piano anche per il piccolo Leone, già vera e propria star del web.